dai colori lo stato di salute della tua pelle buongiorno a tutti sono edonora l'estetista del centro fitness top gym in sago e oggi con voi volevo parlare dello skin color e di come lo utilizziamo in istituto lo skin color è un macchinario che attraverso la luce ultravioletta ci permette di vedere lo stato di salute attuale della pelle la luce infatti colora in maniera diversa l'ipidermide e in questo modo possiamo stabilire l'inestetismo da trattare lo skin color è questo da un lato la cliente può inserire appunto il viso e dall'altro invece l'operatrice attraverso questa lente può valutare vedere appunto la pelle stessa i colori che appaiono possono essere diversi in base al tipo di pelle per esempio le zone iperpigmentate quindi le zone ricche di macchie appariranno con un colore marrone le zone invece più disidratate e quindi più secche appariranno con un colore invece viola o lilla le zone invece diciamo più impure quindi ricche di punti neri di sego di impurità appariranno con un colore giallo oppure arancione e per ultimo gli spessimento cutaneo quindi le cellule morte e quindi la pelle un pochino asfittica apparirà con un colore bianco in base a quello che verrà valutato durante appunto questo check si stabilirà poi il tipo di trattamento più adatto e personalizzato per ogni cliente se il video vi è piaciuto mettete un like un commento e condividete e vi aspetto al prossimo video ciao a tutti